Il caseificio in Campania L'azienda, grazie alla professionalità dei titolari ha dato vita ad una catena di lavorazione, che si avvale della più moderna tecnologia, senza mai dimenticare il prezioso contributo della tradizione, che fa tesoro della genuinità dei loro prodotti realizzati con latte esclusivamente, proveniente da allevamenti controllati e selezionati, da casari esperti. Nel punto vendita del caseificio antico casano, si possono scegliere, acquistare e degustare i prodotti tipici di questa splendida terra. Si tratta di prodotti accuratamente selezionati, secondo quei valori di genuinità e fedeltà, a sostegno delle tradizioni del luogo. Ricordiamo anche, che tanti sono gli attestati e riconoscimenti, che l'azienda ha conferito negli anni, che ne fanno da buon billetto da visita, e da garanzia per i tanti clienti, che scelgono l'ottima qualità, del caseificio antico casano. Al caseificio antico casale, c'è un oro bianco che vale la pena assaggiare.